Eccolo il mordo di questo giro di cantinetta e si è il TicWatch Pro che non si accende più, c'è poco da farvi vedere Cosa è successo? Probabilmente è entrata dell'acqua ma non lo so E' successo che a un certo punto non reagiva più il touch, poi si è spento Poi è venuto un alone tondo qua nel display LCD, probabilmente quello sopra all'OLED E adesso non si accende più, non si carica più, non fa più niente Tra l'altro anche, tra virgolette, mi ero un po' spaventato Perché quando era scomparso tutto era diventato qua dietro caldissimo, bollente Pensavo che si gonfiasse, in realtà non è successo, però poi ho provato a ricaricarlo e niente Morto completamente, non so perché Il fatto è che me l'ha mandato l'ufficio stampa, non l'ho comprato E quindi non so neanche come gestire la garanzia perché è qualche giorno che non mi rispondono più Boh, non lo so, vedremo ma partiamo con le novità Android Pie su OnePlus 6 In attesa del 6T che i rumor danno con un sensor di impronta digitale qua sotto al display Con una tacca molto piccolina e purtroppo senza più jack per le cuffie Speriamo che non sia vero, però di solito i rumor ci prendono abbastanza Comunque presentazione che non dovrebbe essere tra tantissimo Vi parlo di questo nuovo aggiornamento software Rimangono le gesture, secondo me tra le migliori, back, multitasking, home Ma se andiamo nelle impostazioni già vedete comunque un cambiamento di colori E poi vi faccio vedere questa possibilità Vedete barra e gesti navigazione c'è comunque la possibilità di utilizzare la barretta alla pixel Quella tipica di Android Pie Io la preferisco così perché dà più spazio al display E poi vi faccio vedere come nelle impostazioni della batteria C'è la possibilità di attivare la batteria adattiva Lui capisce quale applicazione ha usato di più, quale applicazione ha usato di meno Quelle usate raramente le mette in background Magari taglia un pochino i dati Il fatto sta che la batteria dura decisamente di più rispetto ad Android 8 L'ho usato ieri intensamente, oggi intensamente L'ho voluto riprovare un paio di giorni E devo dire che non scalda e l'autonomia è migliorata Mi piace questa cosa Altra cosa, vi dicevo i temi Basta andare qua nel Aspettate un attimo, vediamo se mi ricordo dove era Nell'impostazione del display La possibilità di andare a personalizzare i temi Vedete, prima c'era solo chiaro e scuro Scuro, se volete risparmiare ancora un pochino di batteria Meglio perché essendo un display AMOLED con i temi scuri Va a utilizzare meno batteria Ma c'è questo nuovo tema colori che comunque è carino Rimane fulminio, veramente molto molto veloce E poi nelle utilità c'è la modalità gioco Eccola qua Che va a avere qualche opzione in più Per le notifiche, per le chiamate eccetera eccetera Vi dicevo che rimane fulminio È un telefono che ieri ha stupito un amico che aveva iPhone 8 Plus Un amico assolutamente inconsapevole Non di quelli super nerd Col suo iPhone 8 Plus L'ha preso in mano e ha detto E la bestia, quanto è veloce questo telefono E che bel display Insomma lui rimane comunque uno dei miei best buy Perché è molto equilibrato Tra prezzo, prestazioni, non eccelli nulla Ma fa tutto molto molto bene Prendo il foglietto degli appunti e ricominciamo il giro cantinetta Charging gate Sì, lo scandalo della ricarica su iPhone Ogni anno c'è uno scandalo nuovo Quando esce iPhone Praticamente cosa succede? A qualcuno Quando il telefono è in questa situazione Quindi bloccato ma acceso Andando ad attaccare il cavetto della ricarica Il telefono non si accende Ma non è successo anche a me in questo momento Ma perché? Ho tolto la cantinetta alla corrente No, attenzione La corrente c'è No, ok È andato adesso in carica Forse perché è arrivato un WhatsApp Perché ieri ho provato tutto il giorno A spegnerlo, accenderlo Tenerlo spento Tenerlo acceso Forse perché è il 100% di ricarica Non è mai successo Oggi Vuoi che sia successo? No, dai È andato in ricarica dopo un po' Vediamo un po' No, adesso ci va Quarto tentativo E ragazzi invece no Succede anche a me Guardate Non è andato in carica Togliendolo e rimettendolo Vediamo un po' Adesso è andato in carica Che sia una cosa un po' random Adesso riproviamo O forse succede dopo un po' Che è in stand by Adesso va Probabilmente dopo un po' Che è in stand by Rimane lì Perché adesso ho fatto tutto il giro a cantinetta Ho detto ma fammi riprovare se funziona E l'ho messo dentro E non è andato in carica È passata una decina di minuti E voglio riprovare a vedere Se fa ancora la problematica Ovviamente alimentata la presa Tac E niente ragazzi Non carica Vediamo se con un tap Inizia a caricare Nemmeno con un tap Adesso tolgo E rimetto Lightning E inizia a caricare Vedete va in carica E là si attiva La L'icona del lampo Beh Succede anche a me È una cosa che dà fastidio Non trascendentale Ma 1700 euro di iPhone E Vabbè Speriamo che sia un problema Solo software E che Aggiornino presto Ci ho detto Niente L'abbiamo appena provato Quindi Direi che C'è poco da dire Per quanto riguarda Note 9 Vedete le patch di settembre Sono arrivate Sono arrivate anche due aggiornamenti Che migliorano La fotocamera E anche il sensore Di luminosità Lo rendono un pochino Più Più preciso Per quanto riguarda Invece S9 Plus Nulla Siamo ancora alle patch Dell'agosto 2018 Rispetto alla cantinetta Che ho fatto un mese fa Non è cambiato Praticamente nulla Anche sul G7 Non è cambiato Nulla Purtroppo Non è arrivato Nessun aggiornamento Siamo ancora Alle patch di luglio Vedete 2018 E poi Il V30 V30 Perché non sono Nella schermata Del software Perché Ho scoperto Come mai a me Non arrivano Gli aggiornamenti Lui fa parte Del primo lotto Di V30 Usciti All'email Che non è inserito Nel database DLG Quindi non mi arrivano Gli aggiornamenti OTA Perché lo tengo Lo tengo Perché sta per arrivare Il V40 Quindi Probabilmente Entrerà quello In cantinetta Se arriverà in Italia Cosa interessante Cosa interessante Del V40 Che comparirò Questo La pentacamera Si la chiamano Proprio così Perché avrà Tre camere dietro E finalmente Mi hanno ascoltato Forse hanno ascoltato Gli utenti Perché ce ne sarà Una grandangolare Una normale E una teleobiettivo Quindi Quindi si Tutte le camere Che servono Mentre davanti Dovrebbero essercene due Ecco perché La pentacamera Altra cosa Il telefono morbido L'ho annunciato Come un telefono Con una Diciamo Cover soft touch Morbido da toccare Sono curioso di vederlo Dovrebbero presentare Domani a New York E In Italia Non si sa ancora Quando arriverà Se arriverà Arriverà Poco prima Di Di Natale Di dicembre Ovviamente Snapdragon 845 Eccetera 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 Honor 10 Non è arrivato Nulla Vedete Il patch però Comunque aggiornata Agosto 2018 Era già arrivata La Turbo GPU Quindi ci sta Che non sia arrivato nulla Di Oneplus Ne abbiamo appena parlato Pocophone F1 Eccolo qua Sono arrivate È arrivato Un aggiornamento software Le patch sono Mi sembra passate ad agosto Mi sembra che fossero Di luglio Ma soprattutto La 9.6.22 Consente L'attivazione Della schermata Di sblocco Con il volto Anche senza fare Magheggi Con le regioni Vedete Io ho messo Regione Italia E funziona Comunque Lo sblocco Con il volto Cosa che Nella precedente release Non andava Aspetteremo MIUI 10 Per vedere Se come hanno promesso Arriveranno Le notifiche In realtà In realtà In realtà Abbiamo visto Che su altri Smartphone Con MIUI 10 Non è così Di Xiaomi Mi Mix 2S Mi Mix 2S Purtroppo Niente Guardate Le patch sono Un po' Indietro Sono a giugno Del 2018 E io Uso la cantinetta Per vedere Il supporto Dei produttori Ai propri smartphone Per gli utenti Diciamo così Standard Normali Io compro questo Telefono Ormai Sdoganata Ci sono i Mi Store Si trova in Italia Global Eccetera Eccetera Perché Dico questo Perché ci sarebbe La MIUI 10 Globale Stabile Uscita per questo Mi Mix 2S Ma A me non arriva Questo è un telefono Che arriva proprio Dallo store Era in celofanato Me l'hanno tirato fuori Dall'armadietto Quindi Non un pre serie Non un pre niente E vedremo Quando arriverà Ufficialmente OTA Però Rimane una considerazione Il Mi Mix 2S È Secondo me Il più bello Smartphone Che ci sia In circolazione Perché il fatto Che non abbia la tacca Che abbia le cornici Così sottili Simmetriche Insomma Mi piace veramente tanto E il Mi Mix 3 Che arriverà presto Avrà il sistema Scorrimento Manuale Che non è una cattiva Idea E poi Per quanto riguarda Lo scorrimento Per ora Li sto tenendo tutti I telefoni Con lo scorrimento Mi Mix 2S Ok Mi 8 Mi 8 È arrivata Qua si OTA La MIUI 10 Vedete Con le patch Sempre di agosto Però purtroppo Il discorso Delle icone Guardate Non si vedono ancora Cioè Io ho tante Notifiche Ma la Non le posso Vedere Quindi questa cosa Rimane Migliorata la grafica La conosciamo La MIUI 10 L'abbiamo vista Più volte E Un telefono che va Comunque sempre molto bene Rimane il ragionamento Che ha Oltre 500 euro Ho preso ufficiale in Italia Non lo so Con quel discorso Le notifiche Prenderei altro Ma Store cinesi 350 360 Se siete un pochino Utenti consapevoli Ci sta Pixel 2 Sono state aggiornate le patch Le vedete a settembre Le vedete a settembre Il 9 ottobre XZ1 Non lo so Io lo terrò qua in cantinetta Comunque non è successo nulla Quindi non sono arrivate Nessun tipo di patch P20 P20 Pro Sono arrivate le patch di agosto Le vedete qua Anche qua Siamo in attesa del Mate 20 Che arriverà a Londra Il 20 Il 16 di ottobre Anche lì ci sarò E nulla di nuovo Con queste patch Solamente un aggiornamento E qua Vi dicevo I due telefoni Con camera scomparsa Il Vivo Next Che Sì Che Mi hanno riparato L'ho mandato in assistenza Ho fatto un video Perché ci sarà Una serie di video Sull'assistenza Delle varie Dei vari brand Stay tuned Perché arriveranno Per adesso ho fatto Honor E Grosso Shop Sostanzialmente Perché me l'ha riparato Grosso Shop Comunque è arrivata Un aggiornamento Patch della sicurezza Passate Vedete Ad agosto E la Funtouch OS Che rimane comunque Sempre una rom Un po' Orientale Così come rom orientale Sul Oppo Find X Che non è arrivato Su quale non è arrivato Nulla dalla recensione Comunque lo tengo qua In cantinetta Vedremo come Come si comporterà Banalmente Perché vi dicevo Per adesso Quelli con camera scomparsa Design un po' Particolari Li tengo tutti E' sempre bellissimo Da vedere Cambio foglio Siamo alla seconda linea Seconda pagina Un altro scandalo Xiaomi Gate Gate Sulla Seconda Sim Ho ricevuto Tante mail Tante segnalazioni Ho guardato in rete Perché pare che con qualche Aggiornamento software Uno degli ultimi Molti Xiaomi Abbiano perso la possibilità Di utilizzare la seconda Sim E questo è abbastanza grave Ho fatto allora Un test nella mia Cantinetta Su vari telefoni Ho provato Il Redmi Note 5 Che è qua Ho provato il Mi A2 Che è qua Ho provato il Mi A2 Lite Che tra l'altro Ho un amico con questo Problema Me l'ha fatto Me l'ha fatto vedere E effettivamente è così Niente Su tutti i telefoni Che io ho provato La seconda sim Funziona tranquillamente Sia come rete dati Sia come rete voce Anche sul Mi A8 Ho provato Quindi a me Sarò fortunato Questa problematica Non è comparsa Ma è una problematica Che comunque c'è E Niente La cosa che mi dà Un po' fastidio È che magari I centri assistenza Dicano Eh aspettiamo Il prossimo aggiornamento software Vediamo se è migliore Così ma che aspettiamo Se io ho bisogno Di una seconda sim Me la utilizzo Così ho il telefono Inutilizzabile Quindi tirata d'orecchie A Xiaomi Da questo punto di vista E per quanto riguarda Gli aggiornamenti Mi A2 Sono arrivate Le patch Vedete qua Di settembre Sul Mi A2 Lite Idem Che però Non terrò qua in cantinetta C'è qua proprio per provare Il discorso sim Vi ho già spiegato il perché Redmi Note 5 Anche qua Vedete arrivata La MIUI 10 Versione stabile Anche qua La grafica Qua le notifiche Si vedono tutte Perché non ce l'attacca Quanto amo Il fatto che si vedono Tutte le notifiche Ho appena fatto Il confronto Con il Redmi Note 6 Pro Che non sta in cantinetta Perché preferisco Lui Quindi non sto a farvelo vedere Troppo Per quanto riguarda Honor 9 Non è arrivato nulla Riconoscimento del volto Vediamo se mi riconosce Non rilevato Luce strana Vabbè facciamo così Ma vi voglio segnalare Una cosa Che non mi piace tanto Non so se riesci a vedere Ma qua Il vetro Si sta leggermente Scollando Vedete Si sta leggermente Aprendo Non è una questione di batteria Che sta gonfiando Proprio la colla Che tiene il vetro Che forse sta un pochino Mollando Forse proprio nel punto Dove ce la ricarica Quindi scalda Un pochino Un pochino di più Vi parlo poi Dell'Honor 9 Lite Qua invece Big news Big news Perché È arrivata la nuova versione software Turbo GPU Patch di agosto Registrazione Possibilità di registrazione Del display Sempre Emui Emotion UI 8.0 Su Android 8 Ma ci sono anche le patch di agosto Quindi Un Honor 9 Lite Che rimane uno dei miei best buy Perché è molto bello Perché costa meno di 200 euro Comunque Per ora lo stanno Lo stanno seguendo E aggiornando Insomma Ci sta E poi Il P10 Lite P10 Lite Che al quale Non è arrivato Praticamente Praticamente nulla Nessun aggiornamento Abbiamo ancora le patch No Attenzione Cosa è successo Ho fatto il giro Esattamente Due ore fa E invece arriva adesso Una nuova versione software Attenzione Versione software Indiretta Vediamo le modifiche Migliora la sicurezza del sistema Con le patch di Google Quindi probabilmente Anche qua Arrivano le patch nuove Allora Facciamo così Lo installiamo ora Lo lasciamo lì E nella prossima cantinetta Vi racconterò Cosa cambia G6 Pensavo fosse stato abbandonato Da LG In realtà Non è così Perché sono arrivate Le patch di agosto È arrivato un aggiornamento Addirittura più aggiornato Rispetto al G7 Che abbiamo visto prima Ancora le patch di luglio Quindi bene così Continua con Il supporto G6 sarà uno di quei telefoni Che Tengo lì A lungo Per vedere Per vedere Quanto verrà supportato Vi ricordo Vi ricordo la mia idea Di tenere comunque Un vecchio top di gamma Per due o tre anni Per vedere il supporto E fa parte di questo programma S7 Applauso a Samsung Sugli aggiornamenti Perché è arrivato Un nuovo aggiornamento Sempre Android 8 E Experience 9 Di Samsung Ma che va a portare Le patch a settembre Del 2018 Quindi continua il supporto Anche su un telefono Che ormai A S7 S8 S9 Beh un bel due anni e mezzo Quindi questa cosa Mi piace Anche su A8 Sono arrivate le nuove Le nuove patch Lo sblocchiamo Patch di settembre Che portano anche Il voice over LTE In attesa Di provare Quel A7 Che ho provato in anteprima Per 5 minuti Nello store Nel building Nell'edificio di Samsung Scusate se ho dato qualche imprecisione In quella anteprima Ma veramente 5 minuti al volo Ho fatto l'anteprima Tra l'altro con un cellulare Quindi anche la qualità video Non era il massimo Però sono curioso di provarlo Perché Sensore di impronte Di fianco Nel pulsante Accensione Spegnimento Tre camere Dietro Insomma Ha delle cose Che mi Mi squagliavano In particolare Questa cosa Del sensore di fianco Purtroppo Non sarà impermeabile Tutta sta spatafiata Per dirvi che Il wiko Non è arrivato nulla Quindi patch Ancora di maggio Le vedete lì E anche sul BQ Niente Patch di luglio Un po' meglio Ma comunque Non sono arrivati aggiornamenti Dopo Questa La versione Che abbiamo visto Già nella cantinetta scorsa Quindi nulla di nuovo Mentre su moto G6 plus Si È arrivato un aggiornamento Sul Anche qua Sulle patch E quindi Vanno a Aggiornamento Di sistema No qua vado a fare Una verifica Però già si vedeva lì Siamo a luglio Del 2018 E stessa cosa Che è successa Al moto Z3 Play Sempre una roba Assurda Accensione da una parte Sblocco dall'altra Vabbè Tra l'altro voglio capire Come gestirà Samsung La questione brevetti Perché Sony XZ1 Ha ancora Il sensor di fianco L'aveva dovuto Disabilitare Negli Stati Uniti Perché La pare Ci sia un brevetto Di Apple Che Preveda Lo sblocco Sul sensor laterale E Motorola Proprio per questa Problematica Ha fatto questo Mammagheggio Di mettere Accensione da una parte E sensore dall'altra Chissà Samsung Come E cosa farà Ma Bando alle ciance Siamo Allo Z3 Play Che Niente Si aggiorna Alle patch Di luglio E Null'altro Da Da segnalare E poi E poi Il Blackberry Key 2 Eccolo qua Non è arrivato nulla Ma lui rimane Uno dei miei telefoni preferiti Ho fatto una colazione Anzi un aperitivo Con voi A Napoli Con Il responsabile di Blackberry Tante domande Tante risposte Arriverà presto il video Scusate ma c'erano Un po' di video Che si sono accumulati Quindi questo Arriverà Spero questa settimana Niente Mi piace Perché è diverso Perché va bene E perché Non so Sarà che ho i capelli bianchi Ma a Blackberry Sono particolarmente attaccato Ci ho detto Niente Vi do appuntamento Tra un mesetto Forse anche un po' prima Perché ci potrebbero essere Delle novità Ciao 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 Grazie a tutti